Bene, così, addirittura, le urla, fantastico, così ci svegliamo. Allora, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui e vedere tante persone che si svegliano di sabato mattina. Io mi chiamo Piero e nella vita faccio il Project Manager, se qualcuno vuole essere poco fiscale mi occupo soprattutto di Agile and Lean, Project Management, e mi occupo di progetti di marketing e comunicazione. Ho un passato anche nell'ingegneria, ma sto cercando di smettere con il metadone e l'aiuto di un terapista, quindi in realtà ne sto uscendo un po' alla volta, è possibile, lo dico anche a voi. Sì, 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 mezzo uomo, mezzo ingegnere, una cosa tremenda comunque. Faccio cose, vedo gente, lavoro con le persone. E come avrete capito, cosa fai per vivere? Il Project Manager. Il Project Manager, se qualcuno di voi ha mai lavorato su progetti, che immagino abbiate fatto, sapete che è bellissimo, giusto? No. In realtà è quella cosa che ti dà da mangiare, ma che genera frustrazione mediamente. All'inizio è tutto meraviglioso. Che bello, un nuovo progetto, lanciamo un nuovo e-commerce, un nuovo sito. E poi un po' alla volta, mentre vai avanti, il cliente cambia idea, i membri del team cambiano idea, le persone litigano, ti rendi conto che forse gestire un progetto non è la cosa più bella del mondo. Allora, questa è una bellissima domanda, ecco. Le domande dovrebbero essere alla fine, ma se interagiamo, dato che sennò poi vi spegnete. Il Project Manager, in teoria, è una persona che gestisce i progetti. Siamo d'accordo? No. E qua vi dico, e qua c'è il trucco. Perché mediamente non sono i progetti a darvi problemi. Io non ho problemi con i progetti. Io ho problemi con le persone. Quindi, in realtà, non gestisci mai i progetti, ma gestisci le persone che fanno il progetto. A volte possono essere i membri del team, a volte possono essere i clienti. Quindi, in realtà, se volete, Project Manager è un titolo illusorio. Cioè, faccio il mio Gantt e il progetto andrà bene. Funziona così, no? O meno rispettate il Gantt. Santo cielo. Però, sappiate che la buona notizia che posso darvi è che nessuno rispetta i Gantt. O meglio, tutte le statistiche dicono che l'85 dei progetti sono consegnati fuori budget, fuori tempo, cambiando gli obiettivi. Quindi, viviamolo anche bene, non è un problema vostro, è un problema dei progetti. E oggi, sostanzialmente, vorrei anche raccontarvi di come mitigare questo problema, perché non è risolvibile, parlandovi proprio di che cosa succede con i team e che cosa fare per risolvere questo problema. Perché c'è sempre. È endemico della gestione dei progetti, avere problemi nel progetto. E infatti, se volete, o gestite team o gestite rischi, nel senso, il project manager fa queste due cose. L'incertezza di fare le cose sbagliate, fare le cose più importanti dopo, fare quelle inutili all'inizio, così il cliente è proprio felice, felice, felice di lavorare con voi. Quindi, per incominciare a parlarvi di che cosa sono queste benedette retrospettive, invece di citare Darwin, parliamo un attimino di Alice nel Paese delle Meraviglie e attraverso lo specchio. Perché c'è una scena molto, molto bella in cui Alice e la regina di cuori stanno correndo, dopo un po' Alice si ferma e dice ma siamo nello stesso punto di prima, abbiamo corso, abbiamo continuato a correre e siamo ancora qui. E la regina dice ah, perché tu vieni da un paese lento. Qui, se vuoi rimanere nello stesso posto, devi correre. Se vuoi spostarti, devi correre almeno due volte più veloce. E questo, se volete, è un attimino quello che sta succedendo con i nostri progetti. Andiamo veloci, ma ci sembra di rimanere fermi. Continuiamo a fare progetti e ci imbattiamo negli stessi problemi. Quindi, in realtà, se volete, il trucco non è correre più veloce a volte, ma cambiare il modo in cui corri. Se ti accorgi che hai sempre lo stesso problema sul progetto, forse non è il caso di iniziare un altro progetto e portarsi dietro lo stesso problema. Forse è il caso di fermarsi a riflettere. Questo, se volete, è un attimino una grandissima scoperta insieme all'acqua bagna e con il sole ti asciughi. Cioè, se ti fermi a riflettere, a volte le cose migliorano. In realtà, sappiate che il project management è una disciplina abbastanza giovane, nasce, se volete, formalmente agli inizi del Novecento ed è molto empirica. Quindi non nasce nelle aule universitarie, ma c'è Taylor che davanti alla catena di montaggi incomincia a farsi delle domande e degli esperimenti. Quindi ha questo approccio molto, molto empirico e sbattendo la faccia per circa 120 anni, hanno detto, bene, se ci fermiamo a riflettere, forse non facciamo errori. Quindi oggi parliamo proprio di retrospettive, che sono dei momenti fissi, dal mio punto di vista, in cui le persone che fanno il progetto si fermano e dicono, che cos'è che abbiamo sbagliato a fare? Perché il problema non è fare gli errori? Si fanno, è inevitabile fare degli errori durante un progetto. Il problema è se per tre progetti di fila rifate lo stesso, quello a me dall'Orticari, ad esempio. Io poi sono un artista deve fare sfumature di errori simili, però l'idea è, quando commettiamo un errore, fermiamoci, capiamo perché è successo, che attenzione non è dare, è stata lei. Non è un tema di dare la colpa a qualcuno, tipo tua, è presente che di solito quando c'è qualcuno che ride in riunione è perché ci ha individuato un colpevole, ti ha mandato male il progetto, è stata lei, io ho mandato la mail, vero? Io ho detto di fare le cose, ma non le hanno fatte. In realtà, come project manager, qual è il vostro obiettivo? Rispettare il gant? Spuntare le checklist? Usare Asana? Trello? Qualcos'altro? Wirke? Ne avete di tutti i gusti? No. L'obiettivo del project manager è portare a casa il progetto e generare il valore tenendo conto del contesto nel miglior modo possibile. Per cui ho detto non è un tema di gant, scrum, ah già, bellissimo. A voi interessa fare in modo che venga generato valore attraverso quel progetto. E per farlo bisogna avere un team che lavora bene. Ed è la cosa più difficile del mondo. Infatti, se volete, piccola chicca, l'altro giorno mia figlia mi ha chiesto papà, ma tu che lavoro fai? Carina, cinque anni. Cosa fai? Gli ho detto, guarda, il papà gestisce un asilo. come a scuola tesoro. Mi ha rubato il progetto rosso, io volevo il progetto blu e quello giallo è più bello. Questa è la vita di tutti i giorni. Lo so, in realtà è un sad applause perché dite è proprio vero. Però è così. E quindi, in realtà, come coi bambini, bisogna mettere le persone in comunicazione. Per cui sappiate che oggi il project manager non è soprattutto un ingegnere, ma è una persona che fa parlare gli altri, che gli aiuta a lavorare bene. Ed è per questo che secondo me è diventato un lavoro meraviglioso. Sappiate che non è una cosa recente, adesso si parla tanto di agile, facciamo scram, XP, ma l'idea di fermarsi e riflettere sui progetti esiste fino dagli anni 40. In alcuni casi ha cambiato semplicemente nome, avveniva in momenti diversi. Ad esempio, in waterfall, quella cosa bruttissima, molto vecchia, un modelli pesanti, si dice quando finisci il progetto, ti fermi e hai il post-mortem. Vedi, le lesson learned, perché gli americani dicono che non ci sono fallimenti, ma learning experiences. Eh? Bello. Quindi ci si ferma un attimo e dice, bene, ora che abbiamo sbagliato tutto il progetto, l'abbiamo consegnato, è andato tutto in malora, capiamo perché questo progetto e tutto quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno è andato in malora. è un approccio interessante, però negli anni 70, 80 si è visto che domandarselo alla fine del progetto forse non era così intelligente e Agile e Lina hanno detto ma se invece di farci questa domanda alla fine del progetto ce la facciamo durante il progetto? Non sarebbe male? Che grande illuminazione! E quindi ad esempio Scrum, che è un framework di Agile, un modo di lavorare, dice guarda, noi facciamo che alla fine di ogni sprint, che è un lasso di tempo fisso, ci fermiamo, ci prendiamo due ore e capiamo cosa ha funzionato nelle ultime due settimane o nelle ultime tre e miglioriamo. Quindi invece di arrivare alla fine e poi dire avremmo potuto e se mio nonno avesse avuto le ruote un trattore, in questo caso è correggiamo e miglioriamo il progetto mentre lo stiamo facendo. Se volete Lean o anche Lean for Startup parla di miglioramento continuo. Scrum dice fai delle cose e dopo uno o due settimane ti fermi. Lean è non aspettare due settimane, se vedi un problema ferma tutto e risolvilo. Che non è mai risolvi il problema ma capisci perché quel problema si è verificato, altrimenti continuate a mettere delle pezze. Mettere delle pezze non è risolvere il problema. Quindi vedete che fin dall'inizio del project manager questa cosa è interiorizzata ci sono un sacco di vignette che ironizzano su questa cosa. Avete presente la bicicletta con le ruote quadrate uno che porta la ruota e dice no guarda sono troppo occupato per migliorare. Questa però è la nostra vita nel senso agenzie di comunicazione non esattamente un posto tranquillo. Che cosa si fa quando finisce un progetto? Sotto un altro è molto se volete tempi moderni di Chaplin vai e fattura milanese imbruttito quindi in realtà lavoro a Milano anche quindi in realtà ormai fatturato eccetera fanno parte purtroppo della mia indole. Quindi in realtà però fermarsi è quello che vi consente di lavorare meglio ma ci sono delle scappate no se volete lavorare meglio vi dovete fermare un attimo a riflettere perché altrimenti reiteriamo gli stessi errori ma non solamente noi ribadisco è il team che magari commette gli stessi errori e se volete vi posso anche raccontare tutta una serie clamorosa di fallimenti che ho vissuto con il team quindi questa mattina oltre a spiegarvi che cos'è e perché è importante cercherò di darvi qualche strumento per fare queste benedette retrospettive e poi vedremo anche quali sono i limiti di questi strumenti innanzitutto perché si fanno le retrospettive come con i progetti qual è il problema dei progetti sapete qual è il motivo principale del fallimento dei progetti dai buttatevi so che è sabato però perché i progetti falliscono non c'è una strategia sotto non c'è comunicazione quella è la seconda in realtà l'obiettivo non era chiaro quindi anche qui la prima cosa importante da chiarire alle persone che partecipano a questa retrospettiva è perché state partecipando a questa riunione perché le riunioni sono una cosa frustrante oggigiorno cosa succede in riunione metà delle persone non capiscono perché sono lì devo venire apro il computer e il lavoro malissimo quindi in realtà l'obiettivo di queste riunioni deve essere chiaro alle persone perché se capiscono perché parteciperanno a questa retrospettiva potranno portare il loro contributo quindi non è il project manager che dice voi retrospettiva e ditemi cosa avete sbagliato ma team ci fermiamo un attimo per capire come migliorare quindi in alcuni casi si possono invitare addirittura i clienti perché se ad esempio l'obiettivo non è chiaro ad esempio si sbagliano le stime le stime sono sempre giuste nel senso sono una scommessa c'è dell'incertezza ma a me piace sempre fare questo esempio quanto ci metto da Verona col frecciarossa andare a Milano più o meno ritardi esclusi un'ora e mezza due sono andato a Trieste e ce ne ho messe quattro tu mi guardi e dici mi hai chiesto Milano sei andato a Trieste la sua stima era giusta ma se l'obiettivo si sposta è ovvio che la stima era giusta e sbagliata al tempo stesso quindi punto uno spiegate alle persone che coinvolgete in questa riunione perché siete lì quindi che cosa si fa in una retrospettiva ma quello che si fa in una qualunque riunione vero? si definisce un'agenda precisa con dei tempi in modo da poter dire eventualmente è molto interessante ma non è in tema se da un'agenda le persone arrivano alla retrospettiva preparate quindi non è un momento di cazzeggio o brainstorming improvviso ma si arriva già con delle idee sulle quali discutere è time boxed che secondo me è uno dei concetti più importanti ovvero è abbiamo deciso che dura un'ora al massimo bene al 61esimo minuto è comunque chiusa eh ma sarebbe molto non importa ci siamo dati un tempo e una disciplina anche questo vuol dire aiutare il team a rispettare le tempistiche l'ultimo elemento è ci sono delle regole ormai avete capito è il project manager che definisce le regole? no Piero non è più come sulle galere romane dove il project manager è quello che batte i tamburi ma se è il team a darsi delle regole è il team che a un certo punto gli dice scusa ma se vi siete dati questa regola voi perché non la state rispettando? quindi se volete il project manager è molto più un allenatore che aiuta le persone a definire delle regole di team molto bello anche quando i team si danno un nome si danno una sorta di mini brand fanno i valori di team e si danno delle regole perché si sono impegnati loro a rispettarle non sono io che devo farle rispettare quindi siccome so che è tutto molto teorico vi do anche sei passi come si fa la retrospettiva punto uno introduzione perché siamo qui? perché incominciate a spiegare alle persone per quale motivo sono presenti e una delle cose da fare assolutamente sempre è un giro di tavolo si chiama round robin se volete usare anche l'inglese per un semplice fatto cosa succede in una riunione mediamente? parlano tutti? no ma noi invece vogliamo che nel team tutti portino la loro esperienza quindi il modo migliore per farlo è costringerli a parlare all'inizio perché se voi lasciate qualcuno in silenzio quella persona si sentirà giustificata a non parlare per tutta la durata della riunione quindi in realtà una cosa molto semplice molto informale ma importante cosa hai fatto ieri la cosa più bella che hai fatto in questi giorni perché si fa questa cosa? avete mai fatto sport? e ovviamente partite a freddo niente riscaldamento perché così lo strappo è la stessa cosa con le riunioni se io devo riflettere devo pensare devo capire devo incominciare a riscaldare il cervello mettermi nel giusto stato emotivo anche quindi dire alle persone guardate che qui tutti possono parlare è un incentivo a far partecipare tutti alla retrospettiva che è il nostro obiettivo perché altrimenti di solito è gli estroversi da un lato e gli introversi a casa che non parlano e quindi noi dobbiamo aiutare tutti a contribuire alla crescita del team punto due bene che cos'è che dovevamo fare? perché magari scopriamo che l'obiettivo non era chiaro scopriamo che c'era qualcosa che è sfuggito e incominciamo forse a capire che la prossima retrospettiva dovrà partecipare il cliente perché se lui mi dice vorrei un e-commerce mi fai una stima un budget certo tra zero e infinito guarda che potrei consegnartelo quindi in realtà a volte anche far aiutare il cliente se volete appunto è molto vicino alla maestra d'asilo ma anche al terapista dai cliente vieni che ti accompagno verso la consapevolezza interiore quindi lo aiutate e cercate di capire cosa non sta funzionando per capire cosa non funziona però vi servono i dati quindi abbiamo avuto questa intuizione che qua ci sia un problema bene vediamo cosa ci dicono i numeri abbiamo sbagliato di quanto abbiamo raccolto delle cose abbiamo rifatto 77 volte la stessa richiesta perché non l'avevamo capita io ho appena rifatto 14 volte una vetrofania e 32 un biglietto d'auguri perché? è perché il cliente non si era espresso chiaramente e quindi e sai ho pensato di rifarlo finché non mi ha detto ok tipo alzare il telefono e digli digli cosa vuoi la prima volta è una grande idea la prossima volta lo farò no questa è settimana scorsa quindi non pensate di essere una storia così dopo che ho raccolto i dati cosa faccio? incomincio a dire bene se questo è lo scenario e questi sono i numeri facciamo delle ipotesi cos'è che potremmo migliorare? potremmo fare questo questo potremmo usare il telefono chiamare delle persone chiedere al cliente di venire qua una volta a settimana e poi ne scegliete una perché se incominciate ad aprire 270 cose non ne chiudete neanche una anche qui deve essere una cosa concreta misurabile e che sviluppate il giorno dopo quando tornate al lavoro quella cosa lì ve la pendete mettete davanti agli occhi e andate quindi deciso cosa fare si ringrazia i partecipanti perché si ringrazia sempre a fine di una riunione per il contributo ovviamente si chiude bella mail di recap come direbbe l'imbruttito e si procede quindi icebreaking giochi fate giocare le persone all'inizio perché si usa tanto il Lego Serious Play o altri metodi perché se le persone entrano nel giusto diciamo nel giusto stato creativo possono contribuire e qui se volete è un ambiente il tema dell'ambiente è fondamentale le persone di solito a queste riunioni le prime volte cercano il colpevole e invece bisogna dire che insomma bisogna imparare a fare le critiche quindi non sei un ritardatario ma è arrivato il documento in ritardo io critico il lavoro non la persona quindi c'è tutto un momento in cui spiegare alle persone come criticare e fare i complimenti ai colleghi è una cosa bellissima chiedere le persone fai un complimento a un collega vedi la gente che diventa viola e se fate un altro esperimento tanto divertente ma con attenzione critica il collega allora non è il tuo caso eh però ad esempio tutte le volte incominciano delle robe assassine tipo la valanga di pietre quindi è non vorrei dirtelo non è il tuo caso e poi partono quindi è quel conflitto latente che c'è sempre nei team e che noi dobbiamo aiutare a risolvere che domande posso fare all'interno di una retrospettiva beh innanzitutto gestiamo progetti saranno legati al progetto quindi non cosa hai fatto ieri come è andata alla maratona però chiediamo al team dal vostro punto di vista come è andato il progetto perché anche qui le percezioni possono essere diverse ad esempio l'altro giorno ho chiesto a uno membro del team di mandare una newsletter è arrivata a tutti con Fname invece che ciao Piero le metto beh è andata bene l'hanno aperta in tanti sì l'open rate è andato anche interessante dal mio dal suo punto di vista ha guardato solo i numeri se ne è fregata altamente del fatto che fosse la variabile sbagliata è andata molto bene dal mio punto di vista avevo appunto la morte nel cuore perché ho detto cavolo sì open rate straordinario di figure di palta quindi in realtà vedete le persone hanno punti di vista diversi sul progetto perché magari vedono solamente il loro angolino quindi incominciare a dire ma condividiamo come è andata sul progetto a questo punto scopro che il mio collega ha una percezione completamente diversa dalla mia l'altro aspetto è che cosa è andato storto che non vuol dire chi ha sbagliato sottolineiamo questa cosa non lei ha mandato la variabile non corretta no è successa questa cosa e anche lì capire quali sono i problemi fondamentali e poi anche cos'è che è andato bene perché il tema non è solo correggere gli errori ma se scopriamo che chiamando il cliente risolviamo il problema sulle stime siamo più veloci facciamo meno errori invece di farlo una volta ogni tanto facciamolo sempre quindi la retrospettiva è un momento in cui scopriamo cosa funziona bene e cosa non funziona e è una cosa che dovete fare voi e con il vostro team non è che vi posso dire non funzionano A, B, C, D ogni team ogni persona ogni progetto sono a sé anche perché dipende molto dalla cultura aziendale quindi com'è che si fa fare questa cosa qui normalmente viene in aiuto l'altro mio figlio che ha tre anni dal momento è piacevolissimo perché io ho detto ha consegnato il ritardo oppure ha mandato la mail con la variabile non corretta perché perché è distratta questa è la risposta di superficie e noi non vogliamo fare questa cosa e da qui capite perché mio figlio è un maestro di questa tecnica perché continua a chiederti perché è perché sei un bambino perché è perché sei diverso da tua sorella perché adesso arriviamo alla genetica partiamo da Mendel e insomma adesso te lo spiego quindi ma a noi interessa questa cosa non risolvere il problema tipo ecco le variabili su MailChimp si risolvono così perché se poi è un altro oggetto dice ma era diverso da MailChimp hanno interesse a capire la radice profonda del problema che si è verificato sul progetto e chiedersi 5 volte perché di solito aiuta 5 è un numero diciamo indicativo perché di solito sono i giapponesi che dicono tu chiedi 5 volte perché e arrivi alle cause profonde al root cause funziona abbastanza bene alla quinta volta che chiedete perché consegnato in ritardo è questo perché 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 vedrete che arriverete più o meno a scoprire le ragioni profonde sono quelle che dovete risolvere perché altrimenti continuate a lavorare in superficie ma il problema si presenterà in molte sue forme altro strumento che io adoro si chiama lo starfish la stella marina perché è uno strumento molto semplice dall'apparenza molto bellino e che richiede tecnologia molto molto bassa perché voi prendete un foglio di carta pennarelli fate una sorta appunto di striscia dividete lo spazio in cinque quadranti vedete che all'inizio qua in mezzo c'è tipo quella stella lì stella marina da qui il nome e con dei post-it chiedete ai membri del team di lavorare tre minuti sulle cose che dobbiamo smettere di fare stop cioè queste cose non dobbiamo più farle ci sono cose che dobbiamo iniziare a fare quindi se volete è una leggera evoluzione perché abbiamo smettiamo facciamone meno proviamo facciamone di più e teniamo queste cose che insomma stanno andando bene è un arricchimento divido questo spazio e qui se all'inizio ho fatto parlare tutti qua vi do un altro grande consiglio questo io preferisco farlo fare in silenzio all'inizio post-it tre cinque minuti a seconda di quante persone avete del livello del team e gli chiedete bene tre minuti tutti zitti scrivete quelle che secondo voi sono le cose da tenere perché glielo facciamo fare in silenzio perché di solito è il primo che parla tutti gli altri dicono eh sì è proprio quella cosa e avrete subito il grande cluster in realtà a noi interessa avere la sensazione di ogni persona è il motivo anche per cui quando c'è un manager faccio lavorare coi post-it perché se no il manager dice dobbiamo fare questo e tutti dobbiamo proprio fare quello e vedi le teste cambiano ma stanno zitti quindi fateli lavorare in silenzio in modo che non si influenzino la vicenda questo molto semplice un foglio di carta una lavagna si scrivono le cose e si scelgono tutte no Piero abbiamo capito il concetto se ne scegli una alla volta proviamo a metterne una in stop una in less in keep tutte invece possibilmente anche tipo sviluppare fare il progetto se ne fate meno poi non fatturate start and more ne scegliete una quindi fate un esperimento per le aree di cambiamento altra cosa bellissima è la 3 i giapponesi hanno molto fantasia secondo voi perché si chiama A3? perché è un foglio A3 grandi se era più piccolo come si sarebbe chiamato? fantastico avete già colto la logica della 3 reporting della 4 reporting della 5 reporting che cos'è? è un foglio di carta perché ma si può fare anche digital certo ma di carta è meglio perché lontano dagli occhi lontano dal cuore il foglio di carta ve lo mettete lì davanti a voi e non potete scappare da questa cosa è diviso se volete in 7 spazi e ricorda un altro bellissimo modello che è il plan do check act quello che si chiama il ciclo di Deming plan che cosa è successo? siamo ci occupiamo di sviluppo software dobbiamo fare un e-commerce situazione corrente l'e-commerce che abbiamo fatto non funziona ha tutti questi problemi vedete che cos'è esattamente che non funziona secondo voi e vi date un obiettivo far andare online la pagina carrello migliorare la cro quello che volete e selezionate diciamo quelle che potrebbero essere le ragioni alla base dell'errore quindi questa è una pagina di analisi della situazione corrente e poi di qua dite bene se questa è la situazione questo è l'obiettivo e questa è l'analisi che ho fatto che cos'è che implemento come contromisure e che cos'è che faccio da domani A, B e C mi aspetto questa cosa dopo un mese dico bene quali sono i risultati? perché ovviamente bisogna sempre verificare se quello che avevate in mente ha funzionato e infatti plan do check act vedo cosa sta succedendo mi metto degli obiettivi che come sempre sono misurabili concreti non voglio vendere di più bravo anch'io tutti però come quanto di cosa plan concreto cosa potrei fare controllo prendo delle contromisure e agisco quindi attenzione che quindi Piero ci ha detto che l'acqua è bagnata il sole scalda quindi io da domani faccio lo starfish e funziona tutto vero? no perché in realtà sappiate che questo è uno dei problemi più importanti ovvero questi sono strumenti ma non è mai un problema di strumenti mi ha rubato il progetto giallo e se ti davo il progetto rosso funzionava meglio? ah guarda avessi avuto il progetto rosso facevo delle cose bene non ce l'hai e anche se ce l'avessi avuto ti assicuro le cose sarebbero andate male perché normalmente è un problema di filosofia soprattutto se lavorate in azienda il problema non è dire alle persone facciamo una retrospettiva che poi arriva al top manager e dice va tornate subito al lavoro schiavi in realtà funziona ancora così avete mai lavorato con aziende tipo del Veneto? tipo succede ci sono quelle illuminate con il Paron quello che ha una visione quasi olivettiana c'è quello che dice bello consulente però si fa come dico io quindi in realtà è un po' difficile però attenzione che gli strumenti sono una conseguenza se io voglio migliorare a quel punto mi fermo è come dire voglio capire se manteniamo marginalità sui progetti bene allora tutti fanno il consultivo delle ore sì ma i commerciali no perché no? è perché sono miei amici e quindi fanno fatica ma se non rendi contano loro fai capire al team che non è importante la gente rendi conta male scena di vita vissuta quindi in realtà non è mai un problema di strumenti le retrospettive se volete sono qua in alto sotto c'è la filosofia e il voler lavorare bene è una caratteristica non di uno strumento ma di una cultura aziendale il fatto di fermarsi a riflettere è una cultura aziendale per questo si dice si parla tanto di lean oggi perché lean non è un modo di lavorare parte dal management pensate a dire a un project manager di vecchio stampo no fermiamoci perché non stiamo capendo qualcosa e avrò detto beh guarda sul gante mi hai scritto questo mi spiace moltissimo continuo a lavorare l'idea invece è creare un ambiente non uno strumento un ambiente dove le persone anche alzano la mano non ho capito e se volete questo è uno dei miei punti di forza ovvero vi dico Steven Seagal ha fatto anche cose buone intrappola sulle montagne rocciose che è uno dei classici film di Steven Seagal dove c'è un buono c'è un cattivo botte per 45 minuti tutti a casa a un certo punto lui è su un treno e sostanzialmente uno dei soldati pensa di averlo ucciso va dal capo e dice bene ho ucciso Steven Seagal e il capo gli dice hai controllato no sberlone e la frase vai a controllare perché la supposizione è la madre di tutte le cazzate quindi anche sì ma infatti dico Steven Seagal bravo una laia azzeccata questa battuta del film funziona perché se ci pensate è qui le persone non vi fanno domande perché hanno paura a chiedere chiamo il cliente ma no dai probabilmente avrà inteso questo supposizione supposizione abbiamo detto ha una conseguenza quindi è un tema di cultura se però mi hanno detto non fare domande vai veloce dobbiamo deliverare hai fatto il brief delivera che poi facciamo l'invoice facciamo tutto così però l'idea è questa bisogna come project manager creare una situazione prima all'interno del team e poi anche all'interno dell'azienda per dire guardate che se il team sta bene Olivettiana memoria se le persone sono felice probabilmente invece di fare un progetto che sarà un buco nell'acqua vi fanno delle domande come il treno che va a Venezia e scopri che devi andare a Trieste sono due stime completamente diverse quindi filosofia lavorare sulle domande e solamente dopo fare le trospettive perché altrimenti poi vi trovate nel mondo del le retrospettive non funzionano l'ho fatta e le persone non mi hanno detto che cosa potevamo migliorare bene surprise